Hello bad guys, benvenuti in questo nuovo video, finalmente tralasciando la guida al formato Edison possiamo dire che questo sia il primo video dedicato al formato e vorrei appunto inaugurare il tutto tramite uno dei miei deck preferiti, ossia il Disaster Dragon. Prima di proseguire però vorrei fare il seguente messaggio, andrò ad annoiare sicuramente alcuni dei miei iscritti però se siete nuovi del canale, state visualizzando questo video, magari cercando informazioni sul formato Edison o non sapete bene come muovervi, io vi suggerirei, come avete intuito da inizio video, di dare un'occhiata al video che ho caricato di recente ossia la guida introduttiva al formato Edison. Quindi, ritornando a noi, il Disaster Dragon, allora il Disaster Dragon è una delle varianti appunto tra i vari mazzi drago esistenti nel formato c'è la versione Dragon Turbo, la versione Dark Dragon diciamo che il... potremmo dire in un certo senso che la versione di Disaster Dragon è un po' quella più stabile concedetemi il termine, dato che bricca forse leggermente meno e ha un po' più di controllo e ha alcune carte che appunto caratterizzano il tipo di mazzo che poi andremo a vedere... Ora direi di iniziare, vi tolgo un momento l'extra deck e abbiamo tre metallici vabbè, li tengo comuni perché di solito alcune... cioè almeno loro li tengo comuni perché quelli più rari li tengo nell'album conservati dato che ho tutte le rarità comunque tre metallici e tre piverne ho pensato a volte di portare questa qui a due ma è anche vero che ho paura di farlo nel senso che molte volte la terza è sempre forte con il Red Ice la vai anche a desidare quindi per ora mi mantengo tre poi tre carte che già caratterizzano il Disaster Dragon anche se giocate nelle altre versioni, magari in meno copie è appunto il Kokimeru Dragon il Disaster Dragon potremmo dire che sia un... io non lo reputerei un T1 ma magari un T1.5 perché tramite anche grazie al Kokimeru Dragon andiamo a dare fastidio a gran parte del meta che aveva appunto sfrutta mostri, luce e oscurità e per chi non lo sapesse il Kokimeru Dragon impedisce l'evocazione speciale di mostri, luce e oscurità comunque stavo dicendo il Kokimeru Drago è una carta molto forte in quanto è anche un 1.900 quindi è forte per buttare bitoni... che magari sfrutta il... che ne so, il GB e tuttavia il trade-off è il fatto che dobbiamo avere sempre un Mossolico Drago in mano altrimenti verrà distrutto durante l'end phase l'altra carta che va a contraddistingue il mazzo sono i 3 Masked Dragon ma soprattutto i Totem Dragon allora, alcuni ne giocano 3 io onestamente preferisco giocarne 2 perché a te lo reputo un po' troppo pesantino e cosa fa questo coso qui? praticamente può essere considerato come due tributi per l'evocazione di un mostro di tipo drago e inoltre può essere evocato dal cimitero qualora non dovessimo controllare i mostri durante la standby a patto che appunto abbiamo soltanto mostri drago al cimitero quindi anche per questo non vado a giocare almeno io personalmente non gioco il DD Crow di Side ma ho il Soul Release per esempio poi abbiamo il Drago Esplosivo che, vabbè, è forte praticamente per levarci i bittoni eh, bittoni scusate, per levarci i ciccioni o carte come il Maestro Armatura della Nera e poi io onestamente gioco il Debris Dragon in quanto, onestamente, vorrei allargare sempre un po' le giocate del mazzo molte decklist del Disaster Dragon non vanno a giocarlo io, onestamente, almeno anche per il mio divertimento preferisco giocare anche lui in maniera tale da avere anche accesso ad alcune singole evocazioni eh, l'extra deck di base non è molto usato in questa versione del Drago ma, ovviamente, neanche tanto nelle altre comunque sì, ci dà accesso magari a un singolo che secondo me è molto molto interessante che poi andremo a vedere e poi, infine, come, diciamo, ciccioni del mazzo trascendo lui abbiamo il il cosiddetto Parmalat il Drago Notte Bianca e, ovviamente, il Light and Darkness di lui non è gioco ehm, tre eh, due scusate in quanto a tre pesante e a due non non reputo appunto sempre pesante e... mentre il loro due diciamo c'è anche una una diatriba e... al posto suo potreste giocare anche il Drago Vizio Chiaro e molte liste non giocano nemmeno il Parmalat io personalmente preferisco giocarlo in quanto molte carte cioè molti mazzi, scusate sfruttano carte come il Rico, per esempio e il problema del Drago sono appunto tutte le carte che spaccano noi dobbiamo cercare di otticappare l'avversario e il Parmalat è una... un'ottima... un'ottimo counter, possiamo dire per la distruzione dei nostri mostri per le magie la magia obiettivamente più forte del mazzo è Fusione Futura che ci permette appunto di evocare il Drago a 5 teste ma diciamo il nostro obiettivo primario prima di evocare il Drago a 5 teste è appunto quello di mandare i nostri draghi al cimitero dove praticamente possiamo dire sia il nostro secondo terreno di gioco per poi devastare il field principale poi è un'ottima carta in quanto diciamo che l'avversario in un certo senso è costretto a sfruttare una risorsa per cercare di togliere la Fusione Futura e possiamo magari investire in altro poi gioco due Upstart Goblin che onestamente prima giocava a 3 poi l'ho portata a 2 però probabilmente cercherò di nuovo di portarla a 3 perché questo mazzo purtroppo non ha peschini obiettivamente a parte i Gold Sarcophagus che appunto non sono peschini ma sono carte che appunto vanno a cercare principiamente le carte che ci servono ma principalmente la Fusione Futura un attimo solo faccio così olè ecco qua Sarcophaghi d'oro e 2 Book of Moon non ne gioco a 3 perché per me 3 sono sempre pesantini e sono molto utili quando l'oppo anche ci fa che ne so il Bottomless Strap Hole andiamo ad attivare questa e preveniamo la distruzione e la rimozione del mostro ma anche forti giustamente contro alcuni tuner dell'avversario poi come controllo del terreno abbiamo Evistone e ritorno totale e infine il Tifone spaziale mistico che per me è quasi un must passando alle trappole invece abbiamo due Bottomless Strap Hole e due Prison poi gioco un Giudizio Solenne una Mirror Force una Starlight Road per prevenire magari attacco Icaro o Absolute Zero per esempio il Torrential che ci crediate o no in tutte le partite che ho fatto non l'ho mai visto poi una Call of the Haunted che è veramente forte con il nostro caro amicone e infine gioco solo una Royal Oppression e una Dust Shot in alternativa a queste due se avete magari problemi di budget io vi consiglierei di giocare un Upstart Goblin e una Phoenix Wing Blast se si chiama così esplosioni d'Ali della Fenice per capirci oppure direttamente due esplosioni d'Ali della Fenice per quanto riguarda invece l'Extra Deck obiettivamente le uniche carte di cui avete bisogno che riuscite ad evocare sono vabbè lui il Lion King Dragon l'Exploded Dragon che era la carta che vi accennavo prima un attimo che sposto tutto verso il centro uno, due e tre queste obiettivamente sono le carte principali dell'Extra Deck di un Disaster Dragon caso che appunto giochiate il Debris ora il mio consiglio è giocare molteplici copie se proprio di lui almeno due copie se magari che ne sono in qualche situazione usate il ritorno totale quindi vi ritorno in mano e potete utilizzarla dopo che sia stato già evocato un po' improbabile però è un esempio che mi viene in mente lui praticamente lo fate con il Debris Dragon che evoca il Totem Dragon lui invece lo fate con sempre il Debris Dragon più magari un drago di livello 3 e praticamente cosa fa? se questa carta combatte con un mosso di attacco uguale o inferiore all'attacco ovviamente di questa carta puoi distruggere il mostro immediatamente con l'effetto di questa carta senza applicare il calcolo dei danni e in più infliggi all'avversario danni pari all'attacco del mostro distrutto quindi è un big bad boy sto ragazzone poi vabbè loro due si commentano da soli lo Stardust magari potreste anche giocarlo doppia copia dato che giocate almeno io gioco la Starlight Road l'Archwind Red Dragon e il Trident Dragon che praticamente lo evocate difficilmente nel senso che l'unica maniera che mi viene in mente è Debris più o il Kokimerio Drago più il Totem Dragon o il Debris più il... come cavolo si chiama? il Parmalat e lui cosa fa? praticamente vi spaccate fino a due carte e questa carta può attaccare altre due volte oltre il suo il suo attacco e poi caso che appunto giochiate i Cyber Draghi di D-Side direi lui poi vabbè qualche carta random così Brinion Agonio Guardian Colossal Fighter il Ponte delle Nebbie e io ho aggiunto anche un Maestro Armaturale per il semplice fatto che D-Side gioco il Brain Control quindi magari qualcosina dall'avversario si può andare a fregare però vi ricordo ragazzi libera scelta per l'exo deck tranne credo che per queste qui queste sono le carte che dovete giocare in assoluto ed eccoci qui quindi spero che la decklist vi sia piaciuta spero che questi contenuti magari possano possano piacervi e soprattutto ditemi se volete altri mazzi Edison fatti da me magari posso proporvi altre versioni del del mazzo Dragon 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 o tutti altri mazzi come magari Hero o GB che posso portarvi ugualmente in real dato che ho praticamente quasi tutto mi manca il giusto e soprattutto ragazzi vi dico questa è la versione 1.0 del del disaster dragon dato che vorrei fare altri test a riguardo quindi è anche capace che potreste rivederla in futuro cioè rivedere il mazzo in futuro più volte sul sul canale comunque sia fatemi sapere quindi nei commenti cosa ne pensate se volete un deck in particolare non lo so ditemi voi prossimo video penso o un'altra decklist Edison o un piccolo unboxing di tante carte all style vintage possiamo dire e quindi ragazzi lasciate sempre un mi piace un commento e ci vediamo al prossimo video see you next time